Allora benvenuti, ci troviamo in via Bobbio, ho il piacere di proporvi in locazione questo appartamento che è stato appunto tutto rivisto. Allora è un quarto piano senza ascensore, questa è la prima camera, gli infissi sono di ultima generazione con doppi vetri, come vi dicevo il riscaldamento è autonomo. Poi questo è il corridoio, qui abbiamo l'altra camera da letto, continuando, qui di fronte a noi abbiamo il bagno che è stato completamente rivisto con questo bellissimo piatto doccia che è appena stato inserito, particolarmente grande. Di qua abbiamo la cucina, ecco vi faccio vedere la cucina, ed infine vi faccio vedere lo spazio, non ci sono spazi esterni, questa è la faccia che abbiamo, qua c'è la scuola, quindi risulta particolarmente luminoso e voglio terminare appunto dall'ultima camera, che come vedete verrà a essere tolta il materiale della ristrutturazione che è stata fatta all'appartamento. È un contratto 3 più 2, ci troviamo in via Bobbio numero 21.